Sono 4.260 i giovani tra i 16 e i 30 anni, un sesto della popolazione complessiva, che domenica 8 marzo a Roseto degli Abruzzi potranno votare per eleggere il coordinamento delle politiche giovanili. Le liste in competizione sono quattro, il seggio sarà aperto dalle 10 alle 22 presso il salone della Villa Comunale. Per gli amministratori sarà un giorno importante per la città. Il coordinamento è un modo concreto di dare la voce ai giovani. Come funzionerà? Funzionerà in base a un articolo che abbiamo aggiunto allo Statuto Comunale, l'articolo 1bis, attraverso una sinergia con loro per accettare proposte, modifiche a quelli che sono anche i programmi nostri. Perché no? Per essere anche da stimolo a quelli che sono i nostri programmi degli adulti. I giovani vogliono fare una loro politica, hanno la possibilità, lo strumento di, attraverso il coordinamento, fare queste proposte. Puoi essere anche protagonisti attivi, cioè anche momenti di gestione del programma che hanno immaginato. Spiegate anche le modalità di voto, apponendo la croce sul simbolo della lista ed esprimendo massimo due preferenze. Il voto disgiunto annulla la scheda. Tutte le schede saranno vidimate. E anche questa è un'esperienza, ma è nel coordinamento politiche giovanili del Comune di Roseto che non c'è alcuna demagogia. Un modo concreto per far sì che lo slogan di dire sempre i giovani rappresentano il nostro futuro, noi in questo modo pensiamo che i giovani rappresentano intanto l'attualità, il presente. Quindi gli diamo la voce oggi piuttosto che aspettare quel futuro che magari molte volte è più complicato e lungo. Significativo l'invito che il sindaco Franco di Buonaventura ha rivolto ai giovani oggi in sala giunta. Siate protagonisti delle vostre idee, confrontatevi e siate propositivi e soprattutto non fate come nelle arene di noi grandi. Per me sarebbe una delusione.